e ti dirò di più è la più costante di dire uno spiegatino idiosincrasia idioscriziania no idioscanzia no idioscanzia idioscanzia no propedeuticità trovo tente in città ma dove preterintenzionale cane bravo no vedi facevo un altro giro città 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 oh stai facendo brutto con me quai hot eh pugno pugno del dragone perchè non facciamo crocche città 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 oh io vado mettimi in bagno mi raccomando tu non fare nulla che non faresti da sobrio città ehi la bel paspione cosa ci fai qua tutto da solo? oh 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 senti so che stai risparmiando ma non è che riesco a soffrirmi il prossimo giro offro un giro a tutto il locale eh sai cosa farebbe ridere? per non fare un cane corri scappa 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 oh silenzio silenzio mia mamma mia mamma pronto? simone perchè non sei giocoso? sono ubriaco sono più bello che mi avviene eee e ti dirò di più di più alla fine scusa scusa ahahah schifo no perché la sci... la sci mamma mia perché stai parlando in turco che li so? corre 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 C'è il primo piano solito, qui i primi giorni finiamo la fine eh... c'è il primo piano solito, lo vediamo le fasi... Vai! Grazie Cristina. IDEO SINCRASIAAA ISIULCASA DI ZIA che cazzo di sia trovo tete città trovo trovo tete città ma lo trovo tete città trovo tete città trovo tete città silenzio silenzio mia mamma silenzio silenzio mia mamma cameriere oh ciao ti rifaccio no dai dai oh che cazzo fai ti confidi le andellate sai sai 1 2 3 io io ora lo devi fare ed è la vera